La maglietta a maniche lunghe felpa girocollo a maniche lunghe da donna Io in sé è elegante e alla moda. Caratteristica, spalle scoperte per donna, camicette girocollo, t-shirt a manica lunga per donna, t-shirt con stampa casuale è unica, facile da abbinare per i tuoi pantaloni e jeans attillati preferiti. Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.